Anche quest'anno il Comitato WISP Perugia Trasimeno, in collaborazione con la struttura nazionale WISP Danza e il Comitato regionale WISP Umbria, ha organizzato l'evento Città in Danza 2019. Mille colori e 24 coreografie rappresentate sul palco del Teatro Morlacchia a Perugia in rappresentanza di 15 scuole di danza del centro Italia. 8 ombre, 5 toscane, 2 marchigiane per una rassegna divenuta un appuntamento fisso nel panorama culturale regionale. Uno spettacolo nello spettacolo a cui più di 200 ragazzi suddivisi in tre categorie hanno dato vita. Le scuole prescelte dall'apposita giuria accederanno alla fase finale nazionale della rassegna. Per quanto riguarda le categorie seniors, le migliori sono risultate ex eco due scuole, Immagine Danza di Firenze e Progetto Danza di Perugia, mentre per le categorie junior la società toscana Curiel Danza e lo studio danza Morlacchi di Perugia. Grande soddisfazione per tutti, anche per chi non andrà alla fase successiva, vista comunque l'opportunità di calcare un parcoscenico teatrale tanto prestigioso e di mostrare in pubblico il frutto del lavoro durato tutta una stagione.